Poi andiamo sul favore, se sei, altrimenti sei bello Quindi questa è la loro? Si No, com'è strike, no? E' la mappa loro, non è buono, non è buono, zipsam scena Gabri? Dov'è Gabri? E' su Discord, mi sa Si C'è Falta Già che è una prima tiro degli RPG, ho paura Ho paura tanta, no siamo tutti quindi no no dico loro minchia questo con mitraglione noi non marines noi up for ok 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 Madonna la Claymore Sarà ancora in lo spawn Dentro la casa di spawn Esatto, lì Il tempo sta per scadere Raga, uno subì per favore Vado io, vado io Ok, rimane l'ultimo Che dovrebbe essere quello con il mitraglione Che finga un quarto di seco Ok, era lungo B Bello Ok Che loro sono 6 Raga, per che fai? Ma stanno giocando in 6 Ah, sono 5 Ah ok, uno aspetta Ma stanno in sesto Quindi io rimango su B, raga Non c'è, non c'è qui Ah, c'è pure davo Bella Ok Uno è passato dietro A Cazzo, sopra... Dentro A è uscito Non ho capito Dov'è Dietro A C'è la pizza, c'è la pizza Bomba Dietro un bar Il tempo sta per scadere Grazie, è B shop Famiglia, trova Garage Sì Sì Ok, l'ho sentito subito Il pizza Non giocano per l'altro Mamma mia, come cazzo si fa a sparare la barretta, dai C'è, una roba Sembra le pistole delle bancarelle C'è, non c'è la fascia Preferisco la digola Cacchio, è impossibile Cerca i distruggi Riprendere l'ubicino Ok, uno in mid Non è sopra la torretta, ragazzi Centrale Finestra Oh, cazzo Casa B, casa B Ok Cosa, quella da Cecchini È sotto? Sulle scale, quella da di casa Cecchini Sta arrivando su B Oh, non altro Non altro, ragazzi B, raga Sì, sì Entrato Ragazzi C'è più più che il lag è la popola di là Attenzione Sì, è un ob Sì Il tempo sta per scadere Era in A Ok Ok Ok, cazzo Bomba piazzata Di nuovo a me ho visto Dietro la bomba Non è che cara me, perché? Dovevo di no mixers Ma Ma Dio, schiacchi Che stanno a fare, ragazzi Scusate, ma non capisco Ah, cazzo, ma l'ho conosciuto Non mi vabbè, no Ma che non vai in Ottimo lavoro, squadra Preparatevi per il prossimo round Stanno scherzando Eh, perché stanno Non è un altro problema Perché se quel fan è chiuso, però Non è un problema Cazzo, scuola Cazzo, scuola Cerca e distruggi Distruggi L'obiettivo La bomba in mano nostra Fumbele, giovedì Fumbele Oh, cazzo, ragazzi È da lì, però Un altro spawn, ragazzi È morto, sì Il tempo sta per scadere Terra, vai a flantare, va Non è un guarda, vai Senti, ti copro io Vai, vai, tranquillo, vai No, cazzo Cazzo, cazzo, cazzo Cazzo, cazzo Cazzo, cazzo Cazzo, cazzo L'occhio L'occhio Cazzo Questa volta mi fanno la triggera, no? Stupisce Ma quale è il problema, scusa? No, cazzo 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 Stato Stato Posso Cazzo 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 Mazz To non è vero ecco io bella tosto no abbiamo apprezzo un round ma non è ancora finito preparatevi per il prossimo vado via devo eliminare quello la che si mette sulla ringhiera cerca i distruggi distruggere l'obiettivo la bomba in mano nostra c'è qualcuno su B mi sa eh vado a vedere cazzo non ho preso ok un altro su B c'ho l'AB per il prossimo round l'ultimo su B andiamo su A piazzare c'è la bomba c'è la bomba cazzo 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 ottimo cazzo 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 il nostro uavvio operativo quasi tutti i balconi fagano ragazzi qualcuno che b arriva 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 sì no l'ho visto uno era uno mi so che qua sopra c'è tutto ecco eh morto benissimo ah shot dietro midshot e un altro quadrato uno sotto finistro e un altro dietro midshot il tempo sta per scadere nooo guarda porca ma guarda questo che mette sempre la clay quanto dipende da te soldato terminati ah da dietro ok fortuna mia colpa mia ste cazzo di kramer preparatevi per il prossimo dovremmo farmi un'imperata di A allora via una mid ah via uno sta notella uno casa b casa cieco mamma mia che rincoglionito che sono ragazzi verso b ho mancato due volte un altro su b due su b è plan si sta uno su plan e l'altro su l'esterno ma è colpa mia sta rampa ragazzi ok uno più sopra il tempo sta per scadere che emozione ragazzi dietro al balcone giocare a sto gioco dopo anni è sempre qualcosa di eccezionale spettacolare non ci sono parole cioè veramente bomba appiazzata il stato l'ha visto tra l'altro italian forse è un vecchissimo clan del minimo di uscire che è chiaro come stanno è ancora finita preparatevi per il prossimo dai impegniamoci dai possiamo fare molto meglio ok mi sono fermato vediamo dobbiamo aspettare un po' la difesa si si assolutamente assolutamente ci riesca ai distrusci ci capiscono eh oh dio oh dio ah che fa ragazzi non vedo nessuno che è passato mid eh e infatti un avvi nemico in volo ok abbiamo uno su A qualcuno è passato da mid eh sotto finestrone uno mi sa che ah ok il tempo sta per scadere io mi sa che lo sento su casa B e su casa cieco si casa B cieco si si sulle finestre di casa c'è ecco ragazzi mostro ci ma dietro il muro minchia di giù per il prossimo round ah ma si era vista vabbè si si però pensavo che non ci non ci beccavo in effetti cerca ai distrucci 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 all'obiettivo la bomba in mano nostra la bomba in mano di giù stroppo se stroppo Com'è A? Oh ragazzi, non so spawn Nostro spawn Nostro spawn Ah, chi na cazzo Ce l'ho a V questa il prossimo round La bomba in mano nostra Bello Ottimo lavoro squadra, preparatevi per il prossimo round Ah, sono quattro loro, raga Eh, ma strappo Eh, fatica Distruggi l'obiettivo La bomba in mano nostra Il nostro uomio operativo Siamo attenti allo spawn Sì, me la guardo io Ah, ma c'è qualcuno Dalla nostra, sì Aspetta, c'è ferro Sì, me la guardo qua Sì, sto io Sì, sono due Non ho visto, raga No Preso Ottimo lavoro squadra, preparatevi per il prossimo round Posso prendere il cecchino, Flitz? Vai, vai, sì, sì Credo... Cerca e distruggi A OP ragazzi Distruggere l'obiettivo La bomba in mano nostra Ombra è giù io Il nostro uomio operativo Ombra è giù io Il nostro uomio operativo Il nostro uomio operativo Il c'è chi dopo la spawn Stanno andando a subire Ce ne sono tre Sì, uno è su di me Uno su A C'è chi lo su A Morto Bella Sì, si voleva... Bella Stavo dicendo Se voleva piazzare sì No Sì, si mettono a mano Vadovi Mica, guarda, la ragazza stava... Cambio squadra Cerca e distruggi Difendere l'obiettivo Umbra è giù Un'altra Faccio solo sperio Quello sparo a te Spuno su A, occhio Eh, attenzione verso B Che è un super Spare le scale? No, no, sul lato destro dello shop, adesso. Eh, basta. Eh, è lì, esatto, è lì. Oh, cazzo, ragazzi. È rientrato, allora. Questo. Quanti sono? Quattro. Quattro. Il tempo sta per scadere! Un po' abrianzata! Quattro guardi! Quattro guardi! Lui, lupi, 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 lupi. Allora, dai, adesso ci rifacciamo. Preparatevi per il prossimo! Circa i distruggi! Perfetto, lupi, lupi, lupi! Capitiamo le hull-off! Ma che cazzo ti? Vabbè. Uno B, ragà, e uno... Vabbè, c'è un po' via, per sapere. Cazzo, in effetti, mi ha detto che quello è subito. Ma what? Uno subito! Tocco il cecchino, tocco il cecchino. Casa B o no? Non è entrato. Pomo caffè. Ottimo, attimo. Quello, l'ultimo dovrebbe stare, mi sa, o casa B o... Non mi ricordo male, verso B. Casa B scusate, casa C. Il tempo sta per scadere! Sì, vedi? Come piangia, vedi? Ti stai chiamando! Ottimo lavoro, squadra! Preparatevi per il prossimo round! Che c'è tu? Minch a questi che vanno da fermentazione per tre Ragazzi, su B, attenzione, uno Preso uno in B Un altro in B Un verso A L'hai visto Rocky? Chi abbiamo? Abbiamo perso un round ma non è ancora finita Preparatevi per il prossimo Facciamo entrare Capri Facciamo entrare Capri Facciamo entrare Capri Capri C'è ancora Non ha senza sta cosa Facciamo entrare Capri Facciamo entrare Capri 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 Qui ci sono C'è un altro Ok erano in due Al nostro spawn Si si, c'era un altro ragazzi Vi viene da dietro Eh sto io qua sullo spawn Ok preso Ok ragazzi mi lasciate l'ultima kill prendo l'UAB Dov'è? Ok guai niente Ok Ragazzi guardo dietro e mi spaventiamo un po' se riesco a... La bomba in mano nostra Il nostro UAB operativo Uno dentro A Quadratto Due, due dentro a quadratto Uno fatto Niente Nannazzo il nostro spawn Fatto l'altro in A Due contro uno Lo vediamo Da plantare va Un altro spawn Un altro spawn E' un uomo visto io Sei Gabri? Chi sta Gabri? No, non ci ho pagato Ma era entrato Gabri, scusate Eh ma adesso si è spostato FK Aspetta, l'ho sposto io Gabri, ci sei? Buon votissimo scato Abbiamo perso un round ma non è ancora finita Preparatevi per il prossimo Un messaggio su whatsapp Senza microfono ma No, funziona Non funziona il microfono Mersi ai distruggi Distruggere l'obiettivo E' come c'era così brutta reputazione bro Ah perchè il nostro comune di stompa a tempo Perchè? Distrugge ogni cosa Perchè? 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 Non so spavano di nuovo, attenzione. No, cazzo, vabbè. Gabri? Paia, ci sei? Il tempo sta per scadere. Cattiva. Vabbè definiamo la gioca in quattro Va bene va bene E poi facciamo entra qualcun altro Anche a PAI Ah ok a PAI A qualcun altro Intanto gli rompiamo il culo lo stesso No cazzo cosa ha blic Oh no perché non l'ho guardato Ce n'è uno su un altro su blitz Pita lo su qui No Ah cazzo Vabbè vabbè Sì sì l'ultima dai Di round sono 12 Sì Uno mita ragazzi Sotto fiorare Come cazzo non l'ho fatto a prenderlo Ma c'è qualcuno Siamo 10 persone Porca puttana Qualcuno c'è che vede Tu le vieni a giocare Sotto fiorare Sotto fiorare Non ci metto a cena Ma a me pare Per favore Eh sta subito Il tempo sta per scadere Terra sulla destra Sotto fiora 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 Così Sottotitutto Sotto fiora La vigilia c'è con te? no no ok oh ma questo mi ha rotto il cazzo sopra qui ok 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 vinta vinta insomma Capri potrebbe scegliere tra 24 ore durante la giornata per fumare e decide proprio adesso la vittoria è nostra! Le ho fatto fratelli! rispecchiti ho sbloccato tutto qualcosa dai buono un livello so salito rispecchiti sarebbe bello eh oddio se conti non so mica io quanti quanti siamo adesso? 4 5 5 fai a metti tag ci gioca anche i rocchi siamo 4 contro 4 per favore per favore per favore per favore mica flizz per favore si sta riconnettendo ah ok distruzione distruzione l'obiettivo la bomba in mano nostra comunque io ho visto ragazzi in un server pro mod ieri ad esempio che c'è c'era un server che ti permette di mettere bandierine per la pagina mazionalità e si doveva pagare annualmente 200 euro per avere quella bandierina che compariva dietro su code 4 chi? no no io l'ho domandato come fa a mettere la bandierina? guarda bisogna pagare annualmente 200 euro poi sono andato sul loro sito in effetti è vero c'è che roba infatti basta inserire atto scora come si fa? cambio caricatore come sta? ho capito preparatevi per il prossimo round cerca e distrutti distruggere l'obiettivo la bomba in mano nostra ma noi che mappa scegliamo? cerco i distruggi per me è differente no che... nel senso che comunque... che vogliamo fare? non lo so ragazzi che dimmi voi strike l'hanno fatta loro possiamo fare backlog se vi va va bene va bene anche te va bene anche te va bene anche te va bene anche te si si eclotte anche broadcast guarda siamo... solo che siamo... ok ci hai detto che stai in... eeeh... mi spettai ci guarda dall'alto che a Ah no, queste sono idiosi Questo si, infatti si vede Cioè si vanno a fissare su ste coppia Le marine raga eh Va bene E questo non ha capito E questo doveva mettere qualche parte Dica, tutti qua Che poi tra l'altro loro ce l'hanno un Vinter Non capisco perché Si si, Hawk, ma anche me Anche Vinter Sì, infatti Manzi, ma li flammiamo per test Certo E questo non capisco Dopo li flammiamo un po' Ma che stava a fare? Non credo Non si riescono a mettere in... Non ho scoperto Difendere l'obiettivo Ma che cazzo fai? GANATA Marino Questa volta si è una volta ancora Sì, sì, mamma Sì, sì, mamma Arrivo due secondi che devo fare qua Ho visto? Un altro? Un altro ancora? Un altro ancora? Un altro ancora? Altri due? Ti tocco sotto, sono due eh Hai visto l'altro? Un altro ancora, salamo arriva Nicola Bello Ottimo lavoro squadra Preparatevi per il prossimo round Gliattola Cerca i pistoli Difendere l'obiettivo GRANATA C'è un altro A Due sub-B fatti Uno sotto-A Fatto sotto-B È morto È rimasto però in A, credo Sì, A Ok, ok U.A.V. nemico in volo Non sta rendendo sì Eh, non è morto È salito? Racchio il beccato Non c'è più tempo Ottimo lavoro squadra Preparatevi per il prossimo round Cerca il distruttore Difendere l'obiettivo Che fanno Dica questi che mi traglioni Gioca, guardate per sud Fanno pure wallback L'ho ucciso sotto-B raga Eh, ucchè, l'ho visto? L'ho sponna Sto a ripisi L'ha visto, l'ha visto Ma raga, occhio che sta casa cecco Stava sotto casa cecco l'ultima volta Biao, hai visto Biao Sta la soffa le menthe Oh, top, vai Ma perché Paya non parla, raga Eh, sento di croccia, l'ho detto Ah, ok Ottimo lavoro squadra, preparatevi per il prossimo round Grande Paya, comunque Sempre top Sempre, sempre Cambio squadre Se continua così, raga Ma no, no No Ma su se la raga Ma vabbè, non è vero Io tutto avanti Non è vero C'è qualcuno, sotto A, che non riesco a beccare Dietro con te Madonna, non è morto Questa ragazza, no? Due casa cecco, uno arriva verso Casa Fiori, da Casa diroccata, come si chiama X-2 era in casa Due diroccate in casa Uno sotto A, occhio Sì sì, è sul lato esterno Ah, ragazzi È colpa mia che mi sono fatto giocare così Preparatevi per il prossimo C'è fatto di bastante, non mi passa i muri Il proiettivo Cerca e distrutti Distruggere l'obiettivo La bomba in mano nostra C'è fanno Perché quello lì si è da noi, scusate? No, c'era un altro sotto qua Mannaggia Eh, ma io li hito Due volte non crepano Ma com'è sta cosa? Chi è che sta... Guardando la stream, raga? C'è qualcuno? Mi piace essere cieco Mi piace il gioco, raga Beh, venga Non c'è più tempo! Non c'è più tempo! Non c'è più tempo! Tu che fanno me ne sentito a destra Starry Qua a sinistra dietro di te Nooo cazzo 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 Non mi ricordo più le posizioni di cazzo Cazzo C'è ogni spot C'è ogni spot Grazie non si sta non su dove Una diroccata Sparto diroccata Uri è sineda Sono su Ayo C'è qualcuno sulla sinistra A me uno Guarda capino Ah, un'altra diroccata Andiamo a spannare, vediamo Sì, sì Ok, ma cazzo Ma non andata molto bene in attacco Bomba disinnescata Delusione Abbiamo perso un round ma non è ancora finita Preparateli per il prossimo Cambio squadre Non è uno mid Posca c'era un altro sulla stasera Ok, c'era un altro Bello raga, buono Ottimo lavoro squadra Preparatevi per il prossimo round Andate Cerca il distruttivo Difendere l'obiettivo La bomba è verso B, ragazzi Eh, è molto forte Vai, anche la bomba è verso B, ragazzi Si è buttato A destra ce l'hai Sì, ho corso Ah, quello là non so come ho fatto a non ammazzarlo Ok C'è Pante che vuole Cerca il distruttivo C'è Pante che vuole Un'abbi nemico in volo Un nostro rischio Il resto di Discord Ah Ah, giù Fiori, uno sopra casa Fiori Fatto Ottimo Ottimo lavoro squadra Preparatevi per il prossimo round Nice Cambio squadra Cerca il distruttivo Distruggere l'obiettivo La bomba è in mano nostra No, 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 no Minchia, un altro su A No, cacchio, sotto Arga Sull'esterno, dietro Dietro, dietro, paia Cazzo Abbiamo perso un round Ma non è ancora finita Preparatevi per il prossimo Ma no, che cazzo Li sfiga Uno so scompire, raga Con sto cazzo ce ne fanno Bella C'era un altro, ragazzi Sotto a fuori Sulla bomba Bella, raga Non bacco l'uomo La bomba è in mano nostra Frantate, frantate Arrivo, mamma, arrivo Due secondi Contro uno, eh Qui, qui Mi sento Ho spot di tosco Melle bro Ottimo lavoro, squadra Preparatevi per il prossimo round Tu sai Sei cinque Ma, sono serio No, questa è perché Cerca i distrutti Distruggere l'obiettivo C'è No, ma sono nato Un minuto, proprio Mamma mia Uno sotto A Che è sto qua Fa il suo capo Il suo capo Come qua da arabo Abbiamo perso un round Ma non è ancora finita Preparatevi per il prossimo Ma contro dei bambini Di merda Cambio squadre Cerca i distruggi Difendere l'obiettivo Ma Fatto, casa centrale Centrale No, no, scusa È il respo ancora Ottimo lavoro, squadra Preparatevi per il prossimo round Che gioco, ma Che gioco Finca questo Come è stato Sparare l'assemble Difendere l'obiettivo Ok Mid ragazzi Ops È morto il biscotto Ah ma siamo Abbiamo perso un round Non è ancora finita Preparatevi per il prossimo Oh perché Perché ho Perché ho ucciso il biscotto Oh ragazzi Vabbè Cerca i distruggi Difendere l'obiettivo Cioè ma tra di loro Stanno Sì Mi sono pensato di sì Una roba assurda Ragazzi E' una roba assurdente Sì 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 Perfetto Grazie Poi facciamo la PCV interna Sì Sì Casomai Siamo da quanto Sono in 3 a loro adesso Uno è qua sotto Sì Ottimo lavoro squadra Preparatevi per il prossimo Raule Facciamo la screen con dopo Così la postiamo sul forno Sul forno Guarda Cambio squadre Sì Sì Non c'è niente Non c'è niente Sì Sì Una bomba in mano nostra I'a Non c'è niente Non c'è niente Anti-rush Mi stanno scrivendo sul Gamebranger chi si scopre si scopre si si chi si è il b oddio si è blocca vicino alla pia bomba disinnescata abbiamo perso un round ma non è ancora finita preparatevi per il prossimo vabbè stiamo cazzeggiando non so io vabbè raga ma sono i due ma che cazzo stiamo giocando vabbè scusa vengono ce l'hanno dittato non so che bomba braun ottimo lavoro squadra preparatevi per il prossimo round questo mi cerco di collegare vabbè Andre ha kickato tutti vabbè 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 distruggere l'obiettivo la bomba in mano nostra UAB nemico in volo SOS eccolo qua c'è ha fatto da bannare ma vabbè vabbè è entrato per bannare c'è va fa schifo Ma sono bambini, quando vedete questi scorti, cominciano a piangere Vabbè, fate voi la scritta, io non posso No Ottimo lavoro squadra, preparatevi per il prossimo round Assolutamente Imparate che non uccidete Biscotta, altrimenti Ma è uscito, ti è bannato ed è uscito Però cambio squadra Era la soddisfazione di farlo, ho capito Cerca il bistro, un po' Era contento Difendere l'obiettivo Non mi ha dormito, non mi andava tosse Ma non mi andava a dormire stanotte No no I video ha scelto, ma era la besta, almeno prima non lo sapevo No ma stai, mi faccio bannare Mi faccio bannare io Il pubblico, mi avevo fatto un po' io Certo Certo Cerca il bistro Difendere l'obiettivo Difendere l'obiettivo Guardate, questo è tipo tutti gentilissimi, cazzo di mare E dopo ti banano così a cazzo duro Una dentro la cazzo Ah ok Bomba in A Non pergiate in A ragazzi Sotto... sotto B Sì che non crepano questi Secondo me si sono aumentati la vita L'hai visto il cancelletto Paya? L'hai visto lì eh? Il cancelletto di ferro Non c'è più tempo! Dove stavi mirando Eccolo a destra L'hai visto destra eh? L'hai visto a destra Paya? L'hai visto a destra Paya? Dentro A Pagliarne A Sta plantando, sta plantando Non sa Ah no Ok Cazzo scusa Abbiamo perso un round ma non è ancora finita Preparatevi per il prossimo Joll Cerca il distrautivo Difendere l'obiettivo Caranata! E' rimasto uno E' rimasto uno Bello Buono Chi ci sta? 5 minuti Voi ci siete? Si 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 Io la screen l'ho fatta Quiglia